Ok questa è la fabbrica, la fabbrica, la porta è chiusa Andiamo su di qua Ci siamo arrivati alla fabbrica, ottimo C'è un star laser, un star tutte cose Lì, 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 perfetto, perfetto Andiamo giù per le scalette va Giù per le scalette Catena Ottimo Certo che voglio usarlo Siamo mica qua a pettinare le bambole Allora Cosa deposito? Le polvere di stella Le buttiamo giù, me ne servono, me ne tengo cinque No No Perfetto Potenzia della lama Fino a tre Un termine molto raro che può ottenere diverse zone di carattere Ok Uh, abbiamo Eh, abbiamo il coso l'organo P Potevamo usufruire prima Quasi quasi Me lo metto e vado E vado Mi teletrasporto E abbiamo un po' di roba Mento Bricatore A tre A tre A tre Diamo giù un po' di roba Undici Amuleti Convertitore Vecchia Generazione Ok Mi teletrasporto un attimo Perfetto Perfetto Andiamo di sopra dal geppetto Ecco E utilizziamo quel cristallo Il nostro albero E le abilità Scusa Allora Fase 4 La fase 2 Non posso prenderla Ok E... Aggiungi una favola O... No, questo qui Miglioro ancora da attacchi caricati Sì, sì Perfetto Ora andiamo giù E altri dieci minuti poi Chiudiamo Alive Vediamo dove arriviamo La prima morte Ci fermiamo Ci fermiamo Oh dai dai che iniziamo un po' a ingranare le cose Manifesto Manifesto Ci sarà un po' Da esplorare Va di bello cosa c'è? Una botola Eh, la botola ci porterà giù Eh no Il propifero che ci porta giù Il propifero che ci porta giù Ci porta in nuova area Eh, non dillo a me Vabbè Ci sono due simpatici ometti Andiamo a vedere cosa c'è giù di là prima Di qua, volevo capire cosa c'era di qua La porta Eh, che pale un altro Stupido, vabbè Andiamo sulla botola, vabbè Ho deciso Andiamo di là Questa Ma questi Questi non si bloccano Posti questi Posti questi Lama, pugnale e salamandra Uuuuuh Abbiamo preso una nuova arma Ma Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Ok 45 Pugnatura Montaggio possibile Buono Ok Da potenziare anche quella Certo che vado di qua L'uso e come L'uso e come Ah si Si Ah, porto via dai Andiamo su Andiamo su Perché Un po' boccione lo lascio lì E la misericordia è quello Vieni Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua Che c'è il pirla che lancia Vieni, 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 vieni Vieni qua tu, vieni qua Bravo Bravo, bravo Qua cado, scommetti No, no Credevo di cadere invece Uh, qua si fanno i burattini Camminiamo di qua E camminiamo di là Maledetto Ok Ok, abbiamo un dispositivo di lancio Guarda quello Eh, lanciamo Beccati questo No, no, ho sbagliato tempismo E anche adesso Guarda come cammina questo Guarda come cammina questo Oh cavo Oh Due belli attacchi caricati E sono K.O. più o meno Ok Ok, qua siamo andati su Qua siamo andati su Qua siamo andati su Quindi andiamo di qua Ok, ora Aia Aia Va bene, è caduto là Io di certo non vado giù Devo proprio Devo proprio andare giù Cazzo è quello Sì, ciao, io devo Affrontare quello Ma siamo fuori di testa Ma siamo fuori di testa Ma siamo pazzi Vabbè Facciamoci morire Perfetto Abbiamo capito chi sarà il boss Della prossima puntata, ragazzi Minchia Minchia Fatemi capire una cosa Solo una cosa Io vado di qua C'è il tizio Questo qui Grande, vero? Due addirittura Nooo Perfetto Mi sta facendo il culo Si Devo capito Ma va a cagar Tu Pista 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 E qui E qui E qui Aiuto Ma va a cagare Tu Chi ti ha fatto Eee Doppio Va a cagare No, adesso voglio Abbatterlo Per capire cosa c'era E poi basta Chiudo Promesso Promesso Ci sono staltri Mi vengono addosso E qui E qui non è andato Ma perché C'è sto stronzo Anche che mi viene Ma va a cagare Ok Ok C'è andato Eee Doppio E di là Ma quanto siete Fastidiosi Oh Va a cagare Non posso vedere Cosa c'è qua Devo buttare giù Il tubo Mi fa andare giù E affrontare quello Oh Provo Provo Solo vedere Cosa c'è Basta Burattino Del futuro Ok Ciao 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 Quindi è una scorciatoia Poi che vengo da là E tiro giù E eccetera eccetera Va bene Va bene Vado Il punto di controllo E salvo Perfetto Signori Chiudiamo qui Caccione Ecco 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 Abbiamo capito Cosa ci aspetta Nella prossima puntata Ok Mi dovrò ingegnare A lottare Con 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 Sti burattini Sti mostri Grandissimi Più di me E quindi Vabbè Speriamo che Che vada tutto bene Beh dai Abbiamo fatto anche il boss Con l'aiuto dello spirito È già un buon risultato È già un buon risultato Bene Ragazzuoli Vi ringrazio tantissimo Ringrazio Rocco Che sei venuto Sei passato qui in chat Ha sbiciato la live Grazie dei consigli E Ci vediamo alla prossima Grazie anche a quelli Che hanno sbriciato la live Mi raccomando E chi mi metterà Mi piace il suo video E chi si iscriverà al canale Yeah Ciao a tutti ragazzuoli Alla prossima Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti